Sara Vickery, Fallserious 2015, V1, Scaled. Ok, vai. Bilanciere. Da 15? Sì. Tisca 5. 5. Ok, timer. Giudice, Marco Cecchin. Trotta, trotta! Andre, telecomandoli! Tisca 5. Tisca 5. Vai Sara! Uno, piano. Due. 3 4 5 fino a 12 6 7 8 9 10 11 12 Marquis stacca le mani bravo 1 2 3 4 5 6 fermati ferma ferma Sara guardi ce li hai aspetta frutta vai 13 vai di sotto 14 brava 15 16 17 17 18 19 continua 20 fino a 24 21 si 22 vai 23 vai 23 e 24 24 6 piana brava 12 vai 6 vai siamo a 24 brava 2 3 sei bravissima Sara 4 5 5 5 e 6 Sara ferma 10 ok fino a 34 oh se gli vai sotto non fai fatica sei perfetto 10 eh a 2 45 partiamo brava andiamo Sara fino a 34 siamo a 24 vai 25 25 26 27 27 28 29 30 ancora 4 31 si 32 vai così 33 un altro salina quello per me vai e 34 ok Sara andiamo oltre i 50 oggi eh piano 34 vai 2 2 brava Sara 3 3 4 4 5 5 6 sarà 8 facciamo siamo a 34 sarà facciamo 8 8 e poi ti preghiare non va siamo a 34 8 Sara adesso devi concentrarti vai via andiamo 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 gestisci la forza 36 36 tiro a 42 37 38 vai di sotto 39 vai di sotto vai 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 40 altri due altri due 41 un altro andiamo giù Sara vai un altro dai dai sotto brava Sara bravissima 6 arriviamo a 50 1 2 3 3 4 5 5 vai Sara Sara 8 Barbis e poi tutti quelle che hai siamo a 42 vai 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 me ne bastano anche 6 Sara vai dai solo 6 vai vai 43 vai vai 44 vai vai 45 vai vai 46 sì ancora 47 ne fai una ne fai una una 48 mettilo giù vai al business tutti con le chiave vai 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 via via 6 Sara devi essere più veloce adesso perché hai poco tempo vai siamo a 48 andiamo sopra i 50 vai 1 vai dai dai Sara veloce cazzo 2 dai veloce eh veloce Sara brava 4 5 1 sarà 1 sarà 3 3 3 dai vai 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 49 59 ancora ancora 51 51 51 51 51 Grazie